Adesso andremo a vedere una delle più vecchie, anzi la più vecchia casa di Los Angeles del 1818 E questo è il nostro colbino Churros Nakos e agua fresca L'istituto cultural mexicano Questa croce indicava il punto di fondazione di Los Angeles Che allora si chiamava ancora il prebolo della nostra signora la reina de Los Angeles 4 settembre 1781 Su questo selciato una volta c'era il piume Poi la città si è sviluppata tutta verso l'oceano Adesso andiamo a vedere la casa del governatore che è la casa più vecchia La casa più vecchia del regno è stato facendo delle riprende, nel giardino dietro non ci fanno andare Però la casa è visitabile, sempre da questa porta e poi a questo punto non so dove ci faranno uscire Ci sono dentro gli arredi del periodo Le mobili del governatore, la casa del governatore, quindi una casa ricca, signorile Non so dove ci faranno uscire Però anche guardate quando si vedete le penura Il forno fuori, il giardino La stessa ceramica La stessa ceramica E poi E la guardate pure E poi E la guardate pure E poi L'ombretta Sempre l'interno della casa La cucina L'ombretta La cucina Cucina La dei signori, dei genitori, l'alcoba dello Sparles Notare il salto della degenerazione Il patio del giardino Con i grattacieli in fondo Il clock tower Un'altra casa molto vecchia del quartiere messicano di Los Angeles Qui si preparano la via dello Smuertos Halloween Diccio delle coste Il numero 2 Il numero 0 Un po' di tempo Il numero 2 Un po' di tempo L'angolo fiorito di Olvera Street Caramaria, no no tranquilla Maria Stefania, ancora Marcella, Armando... Istituto Cultural Mexicano sempre vicino a Olvera Street Olvera Street con la croce dove è Italo adesso dove è sorto il primo insediamento di Los Angeles Il 4 settembre 1781 Mi mamma L'angolo fiorito di Olvera Street Umberetta diceva che molte città della California ma anche degli stati occidentali degli Stati Uniti hanno nomi di Santi Santa Monica, San Diego, San Francisco la stessa Los Angeles è la Nuestra Signora de Los Angeles perché la regina Elisabetta, molto cattolica, mandò qua a fine del diciottesimo secolo un sacco di preti francescani, dominicani eccetera per fondare nuove comunità e convertire gli indiani Lo d'accordo